Ciao, benvenuti in questo nuovo video dedicato al nuovo volantino del Lidl. Queste sono le offerte che inizieranno lunedì 19 agosto e dureranno fino al 25 agosto. E possiamo vedere che ci sono i formati XXL, quindi super vantaggiosi. Diamo subito uno sguardo alla pagina principale, così ci facciamo già un'idea delle prime offerte che possiamo trovare questa settimana. Vediamo un po', ci sono le uova. Molto convenienti e ovviamente anche i gelati. Sfogliamo, vediamo un po' cosa c'è qui. Quindi la provoletta e la carne, mortadella, fiocchi di latte, il formaggio gauda che sinceramente non ho mai provato e mi incuriosisce anche perché, tanto spesso dire che è molto buono. Poi mortadella. Vediamo in quest'altra pagina, le alette di pollo marinate, ovviamente formato XXL, c'è anche il pesto, il salmone norvegese in formato XXL appunto, la rucola, le olive, vediamo qui di lato, snack di mais, le tortiglia e i popcorn salati da fare in microonde. Sfogliamo, queste ovviamente sono tutte offerte che troveremo lunedì. Vedo che ci sono i gelati, anche questi in formato XXL e ci sono due gelati in più in ogni confezione. C'è anche il kefir in mega formato, a 99 centesimi tra l'altro, fantastico il prezzo. Muffin e questi qui, che devono essere buonissimi, sembrano i Kinder Pingui. Vediamo un po' qui, c'è mix di frutto e guscio, mandorle. Ci sono gli anacardi, che io vorrei prendere, 500 grammi, 7 euro. Poi c'è la birra, le salviettine e la carta igienica. Mentre qui di lato troviamo le energy drink, la bevanda proteica e il budino proteico. Sfogliamo, frutto e verdura, troviamo le nettarine a 1,79 euro, poi le carote XXL, le susine, le mele, confezione da 2,5 kg tra l'altro. E con lì del plus ci sono i kiwi gold, che sono i miei preferiti, sono buonissimi, e l'avocado a 1,19 euro. Reparto macelleria e pesce, vediamo un po' velocemente quali sono le offerte di questa settimana. Bocconcini di tacchino, trisse di salsicce, poi c'è il filetto di orata, le mazzancolle che sono precotte, il sushi, avendo il Lidl Plus, lo troviamo a 5,99 euro, i nuggets di tacchino e l'hamburger di bovino. Mmm, fantastiche queste offerte. Poi, trio pizza, 4,79 euro, queste le metteranno ovviamente sempre lunedì. Il Lioner, che buono, mi piaceva tantissimo, questo non lo mangio da tantissimo tempo. Insalata di riso, c'è l'hummus, e qui in basso altre offerte avendo il Lidl Plus. Vediamo nell'altra pagina, eccoci qui. C'è il salame di prosciutto, poi il primo sale, filetti di sgombro, cuor di carciofi, l'insalata Cesar, burger, tranci di pesce spada a 4,99 euro. Pesce spada tra l'altro è il mio pesce preferito. E qui in basso altre offerte avendo il Lidl Plus. E vedo che c'è anche l'acqua micellare della Garnier. E questo che non l'avevo inquadrata, la focaccia farcita. Ok, proseguiamo. Altre super offerte, il croissant, il tonno, c'è anche il rio mare scontato, poi la pasta, le bruschettine, la birra Peroni. Vediamo un po' qui, ci sono i plum cake, il succo. Ma i prezzi secondo me sono davvero fantastici questa settimana. Poi i biscotti, c'è l'actimel. Vediamo qui in basso. Preparazione spalmabile a 75% di frutta. Ok, andiamo avanti. Altre mega offerte. Ci sono tantissime cose in offerta. Il tartufo gelato, chissà com'è. Poi gelato alla panna. Yogurt alla greca. I fazzolettini a 1,19 euro. Winnis, detersivo per piatti. Poi lo spray anticalcare. Bellamette, Boradalco e Power Active a 2,39. Vediamo un po' le piante. Allora, lunedì troviamo le rose, che sono bellissime. Altre piante fiorite. Bello anche il Lilium a 8,49. E poi c'è anche il Terriccio, sia per le rose che per le succulente. Mi sa tanto che io prenderò quello per le succulente. Giovedì, invece, troviamo queste piante qui. Comunque anche l'altra volta non sono riuscita a prendere la lavanda. Ci riuscirò prima o poi a prendere questa benedetta lavanda? Non si sa. Spero di sì. Poi, vediamo altre offerte. Questi qui sono i grandi marchi. Quindi c'è la Mutti, Rova Gnati, l'hamburger Aya. Questo, se non mi sbaglio, l'ho trovato in passato ed è buono. C'è anche il gelato Poké Coffee, riso basmati, Minis Cioco, Tremarie, Galbusera, Pick Up, a 2,89. Vediamo un po' qui. C'è la birra della Drer, altra birra. Anche qui, Sant'Anna, al limone, le patatine. Ci sono le batterie. Ah, tra l'altro queste sono ricaricabili. Quindi, ottima. E qui, in basso, altre offerte. Uh, c'è il dentifricio. Questo lo segna assolutamente. E come potete vedere, le metteranno giovedì. C'è scritto. Poi sfogliamo. E giovedì ci sarà... Settimana Spagnola? Ah no, Caraibica. La settimana Caraibica. Burger piccanti a base di avocado. Vediamo un po' qui. C'è il mojito, la piña colada, sì, sì, questi me li ricordo. Questa era da un po' che non la mettevano. C'è poi il gelato e le patatine. E il nettare di guava. Chissà com'è il nettare di guava. Se qualcuno di voi l'ha provato, fatemi sapere se è buono. Uh, wow! Allora, da lunedì, raga, per chi ama il back to school, la cancelleria in generale, mettono tutte le cose appunto di cancelleria. Tra l'altro ci sono gli sticker che amo io a 50 centesimi. quindi io lunedì mattina alle 8, cioè all'apertura, sarò piazzata lì, a Lidl, anche perché le cose di cancelleria cioè finiscono subito. Quindi, se non ci vado presto, non trovo più nulla. Che belli questi evidenziatori. La colla, c'è anche quella istantanea, set per ufficio. Tra l'altro ottimi i prezzi. c'è anche la lavagnetta cancellabile con tutte le penne colorate. Carine. Le cartelline, l'anno scorso le ho prese, sono validissime queste cartelline. Mi sa che le riprenderò perché ho dei documenti da conservare. Poi sono belle, colorate, quindi mettono anche allegria. Anche blocchi da disegno questi qui, ottimi, a 2 euro. Anche questi li ho presi l'anno scorso, ancora ce l'ho. Sette luci led di segnalazione. Poi ci sono i contenitori impilabili. Gli occhiali da lettura. Ottime, ottime cose. Mi piacciono. Parkside, raga, mi sembrava strano che questa settimana non ci fosse il Parkside. E come sempre, io lo scorro velocemente. Quindi, in sequenza, manderò tutte le varie offerte. Se c'è qualcosa appunto di tuo interesse, basta che metti in pausa il video e insomma puoi vederlo meglio. Qui in basso invece vedo delle cose tanto carine. Lo zerbino e questi mi piacciono troppo. Lampada decorativa d'energia solare. Cioè, c'è il gufo, lo amo. Mi piacciono veramente tantissimo questi. E li metteranno lunedì. Comunque devo dire che per quanto riguarda il Parkside mettono sempre delle cose utilissime. E mi sembra che abbiamo finito col Parkside, sì? Allora, da giovedì vediamo un po' cosa mettono. Forno a microonde in diverse colorazioni. C'è il lilla e carinissimo. Mamma mia, che bello che è lilla. Poi c'è la macchina per il caffè espresso. Anche questo in due diverse colorazioni a quanto pare c'è verde e acqua. Poi c'è la planetaria. Bella anche questa. Io adoro che il Lidl fa tutte queste cose colorate. Cioè, guardate che bello il frullatore lilla. Ovviamente c'è diverse colorazioni. Anche la bilancia che è ottima, però l'ho presa l'altra volta. Il tostapane. Anche questo bellissimo. Il lilla è la prima volta che lo mettono, sapete? Non l'avevano mai messa le cose lilla. Solitamente le mettevano rosa e verde e acqua. Infatti io ho tantissime cose rosa. E qui vediamo che c'è anche la macchina per fare il pane a 59 euro. Bellissime offerte per la cucina che continuano qui sempre da giovedì. C'è il set di piatti della Tognana. Che bello che è quello rosa. a 49 euro e poi ci sono anche i bicchieri anche questi bellissimi a 9 euro. Però sono solo tre bicchieri. Ci sono queste cose le teglie, stampo da forno a 4,99 anche questi tutti belli colorati. Gli utensili da cucina anche questi ci sono o lilla o verde acqua. Set coltelli. Guardate che belli questi taglieri da cucina. Anche questi lilla e verde acqua lo vabbè adoro. Poi qui c'è il tegame con coperchio anche questo in diverse colorazioni. Il bollitore con fischietto. Padella in alluminio anche questo in diverse colorazioni. Il tre da tutto a corda questo lo adoro. Poi ceppo porta coltelli. Tappeto da cucina però non mi piacciono le colorazioni sinceramente. Set di contenitori a 5 euro. Ottimi questi del Lidl. Alzatina in porcellana. Poi c'è anche ci sono anche questi pensili scappali portabottiglie a 12,99 e lo shopper pieghevole a 1,99 Sempre da giovedì ci sono le cose per i più piccolini tanti giochini divertenti e carini Anche qui scorro velocemente Quante cose vediamo qui ci sono altri giochini le valigie poi ci sono i calzini sia da bambina che da bambino dei set di cancelleria molto carini album con sticker la risma di carta questa la devo assolutamente prendere ed è molto bella anche questa lampada qui che cambia colore e siamo arrivati al super weekend con le offerte che inizieranno il 23 agosto e dureranno fino al 25 agosto e vediamo un po' cosa troviamo ok c'è anche la Simmental e poi qui vedo che ci sono le Yankee Candle le candele la batteria questa e la motosega elettrica e ok allora devo dire che questa settimana dell'Idle mi entusiasma molto perché ci sono tante cose carine particolari proprio belle e poi c'è il back to school quindi che ve lo dico a fare non vedo l'ora di fiondarmi a Lidl come sempre spero che questo video sia stato di tuo gradimento se è così un bel pollice in su mi raccomando io ti auguro una buona settimana e spero di rivederti anche nel mio prossimo video ciao